Buongiorno, ciao a tutti, benvenuti nel canale, sono qui per parlarvi oggi dei profumi novità che sono usciti quest'anno di erbolario, ci vediamo tra poco! Ciao, buon pomeriggio di dicembre, oggi è la prima domenica di dicembre mentre sto registrando questo video qui sta arrivando piano piano l'inverno e fuori fa freddo freddo e così io mi intrattengo con voi parlandovi delle ultime due novità che sono uscite in casa, erbolario e che sono Lilla Lilla e Indaco che io ho acquistato nelle versioni da borsetta che sono anche due edizioni limitate, al loro interno questi profumi sono contenuti in un astuccio di velluto che richiama anche il colore del flacone, questo è Lilla Lilla, molto molto bello eccolo qui e questo è il suo vaporizzatore ieri ho girato un video sul profumo Alien di Thierry Muglet e vi ho accennato che vi avrei parlato in un video successivo di un profumo che a mio avviso era un dupe di Alien e il dupe di cui volevo accennarvi che vi ho lasciato anche in sospeso perché ha detto ve ne parlerò prossimamente è proprio questo, è Lilla Lilla di Erbolario che secondo me lo ricorda tantissimo si differenziano però per le note olfattive perché mentre Alien riporta una piramide molto semplice con tre note che secondo me sono però tra accordi perché in realtà è il profumo più complesso di quello che vuole sembrare Alien ha in testa il gessomino, poi il legno di cashmere, che sarebbe un insieme di note legnose nel suo cuore e poi all'ambra bianca come fondo invece questo qua Lilla sembra avere una piramide molto più complessa abbiamo in testa bergamotto, arancia, nero, lipesca e cardamomo come note di cuore Lilla, violetta, gessomino indiano, labdano e fava tonka e poi abbiamo come base paciuli, vaniglia, cedro, muschio bianco e ambra in comune con Alien abbiamo l'ambra nella base abbiamo il gessomino indiano e diverse sono le note invece di testa però vi assicuro che lo ricorda tanto, tanto, proprio tanto e le note di cuore di questo profumo Lilla Lilla sono appunto Lilla, gessomino indiano, violetta però il gessomino indiano secondo me si sente di più e si sente di più anche del Lilla e come note di fondo si sente abbastanza il paciuli secondo me e l'ambra è molto buono e si assomigliano tanto nel cuore perché dopo un po' che il profumo si asciuga viene, evapora sul polso è lì il punto che comincia ad assomigliare tantissimo secondo me ad Alien quindi almeno su di me si sente di più il gessomino del Lilla poi man mano che il tempo passa si cominciano a sentire queste note morbide è un fondo come un po' più morbido rispetto ad Alien è leggermente ambrato e si sente comunque anche secondo me un po' il paciuli come durata non è male perché io l'ho messo per esempio questa mattina che sono uscita presto oggi perché mi sono alzata presto sarà uscita che saranno state le 9 e mezzo e alle 2 del pomeriggio ancora lo sentivo a fior di pelle però non lasciava più diciamo la scia quindi come persistenza non è paragonabile a quella di Alien perché Alien quando io lo applico mi rimane sui vestiti e riesco a sentirlo ancora il giorno dopo mentre questo se ne va via per farlo durare di più secondo me è ottimo la copiata con la crema mi hanno regalato dei campioncini di questa crema e infatti ho visto che dura molto di più se si mettono in sinergia un consiglio secondo me è proprio quello di utilizzare delle creme come in questo caso una crema che sia la stessa profumazione del profumo che poi applichiamo per farli durare di più quando i profumi non sono persistentissimi come nel caso di questo però le persone che non sopportano profumi troppo forti o per chi magari Alien possa risultare quasi troppo invadente perché è molto molto intenso a me questo piace a me piace l'intensità i profumi che lasciano la scia poi ci penso io ad usarmi a mettere magari pochi spruzzi invece che spruzzarmi che farmi il bagno nel profumo però la scia io l'amo però certe persone non sopportano che gli rimanga il profumo sui vestiti ad esempio mia mamma è una di quelle non sopporta che gli rimanga l'odore sull'abito le piace sentirlo sulla pelle ma non trovarselo il giorno dopo sul vestito e quindi può secondo me essere utilizzato da questo tipo di persone ma non solo anche magari nelle stagioni dove comincia a fare un po' più caldo magari verso primavera e quindi non essendo troppo forte quei primi caldi potrebbe essere meno invadente e sinceramente a chi le regalerei questo profumo non magari una persona che conosciamo che già utilizza Alien perché potrebbe essere magari delusa dal discorso della persistenza invece a una persona che già utilizza Alien io le regalerei proprio la crema perché io l'ho applicata me ne hanno date più di una di queste bustine dopo la doccia ho applicato questa crema qui e mettendoci poi Alien vado accordissimo perché si assomigliano proprio tanto a me piacerebbe riceverla da copiare con il profumo Alien e mi piace anche questo sono contenta di averlo non lo riacquisterei in full size in una confezione magari da 50-100 ml perché ho già il mio amato Alien e quindi questo lo utilizzo volentieri ma non sono impazzita ecco per questo profumo perché non lo trovo una novità ecco però me lo tengo volentieri poi è proprio bello anche così come si presenta da portare magari anche in viaggio è molto molto carino invece adesso vi parlo dell'altra novità di erbolario che è Indaco e vi racconto un po' la mia esperienza con questo profumo anche di questo ho le creme mi hanno regalato le creme e all'inizio i due campioncini anche di profumo che ho utilizzato prima di decidere di acquistarlo questo qui Indaco io lo trovo meraviglioso la mia prima reazione è stata non positivissima perché appena spruzzato l'ho sentito molto maschile molto forte ma è poi attraverso la sua evoluzione che ho cominciato ad apprezzarlo ed è un profumo secondo me straordinario originale davvero un ottimo profumo questo è il suo astuccino blu come blu è anche il flacone questo è Indaco ed è quella che oggi mi spruzzo prima di descrivervelo secondo me questo profumo è una vera e propria chicca è originale innanzitutto ed è un profumo che vi dico subito non piace a tutti perché avevo visitato più di un'erboristeria prima di decidere di acquistare il piccolino questo qui e trovavo delle commesse che mi dicevano è buonissimo è buonissimo e in un negozio ad esempio ho trovato una ragazza che mi ha detto questo profumo è orrendo è il profumo più orribile che io abbia mai sentito e quindi questo profumo secondo me fa degli strani scherzi perché cambia da persona a persona reagisce in maniera diversa da una persona all'altra questa ragazza che 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 li stava vendendo e che mi ha detto che era un profumo terrificante e orribile mentre stava parlando con me il profumo io l'avevo già provato nell'altra erboristeria giorni prima il profumo stava reagendo sulla mia pelle e quando l'ho fatto così e l'ho fatto sentire lei mi ha detto ma è buonissimo quindi su di Leia probabilmente aveva una reazione chimica strana e se lo sentiva come una cosa terrificante su di me invece le piaceva su di me rimane con un fondo poi talcato ed è veramente buono 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 tra l'altro ha una persistenza alla Shalimar vi impregna le giacche vi impregna i vestiti vi rimane sulla pelle arrivate a lavarvi le mani e ancora ce l'avete su e per essere un profumo di erbolario un profumo che comunque rispetto ad altri profumi magari della grande distribuzione a un prezzo anche contenuto veramente si difende alla grande per originalità persistenza scia tutto quanto io veramente sono innamorata di questo profumo sono contenta di avere questa edizione qua da borsetta che è bellissima penso che lo ricomprerò anche nella versione da 50 o da 100 ml perché secondo me è una vera e propria chicca e adesso vi leggo la piramide olfattiva che è veramente complessa è una piramide con un sacco di note abbiamo in testa una testa grumata legnosa con bergamoto di calabria mandarino di sicilia bacche rosso del giappone pacciuli dell'indonesia allora quello che io sento sono gli agrumi e si sente tantissimo già la nota legnosa effettivamente già in testa questo profumo poi ha un cuore fiorito con geranio d'egitto cedro del marocco benzoino del siam rosa centifoglia di grass magnolia bianca giapponese e violetta di tolosa e poi abbiamo una base un fondo vanigliato ambrato con le note del pacciuli indonesiano con l'ambra la vaniglia del madagascar la fava tonka di caraibi il vetiver indonesiano ma non è finita qui abbiamo anche muschio bianco dell'himalaya e cacao del perù allora le note che io sento sono le note agrumate e legnose si sentono già queste note legnose ancora in testa e sembra molto più maschile all'inizio però poi io lo trovo molto molto morbido man mano che il profumo si evolve infatti l'erbolario lo vende come profumo unisex ma io lo sento anche molto femminile sinceramente come cuore abbiamo geranio d'egitto cedo del marocco e la rosa io la rosa ce la sento ce la sento poco sento anche qua di più le note più tipo geranio e gersomino quindi un pochettino più pungenti e poi sento tantissimo la fava tonca il paciuli si sente e questa parte legnosa buonissima che non so se è il labdano che dà questo aroma e si sente anche questo caldo questa nota dolce che viene data probabilmente dalla nota del cacao buonissimo buono buono originale questo si proprio da riacquistare e secondo me speriamo che non lo tolgano perché rimarrà nella storia di Erbolario questo profumo io sono molto affezionata ai profumi di Erbolario perché sono stati i miei profumi perché Erbolario c'è dalla fine degli anni settanta e chiaramente quando anche ero una ragazzina adolescente ma anche nella mia prima giovinezza diciamo acquistavo più che altro profumi di Erbolario e un pregio di Erbolario secondo me è che Erbolario si è spesso ispirato più che a profumi della grande distribuzione a profumi di nicchia perché mi è capitato poi di sentire tra i profumi di nicchia come per esempio profumi come quelli di Serge Lutens dei profumi che mi ricordavano tanto Erbolario per esempio Sua Maestà la Rosa mi ricorda la rosa di Erbolario poi abbiamo per esempio l'Iris sempre di Erbolario che ricorda Viloresi Tendenege questo non saprei però veramente i profumi di Erbolario hanno un ottimo rapporto qualità prezzo poi una cosa che mi ricordo quando ero molto giovane che facevano molti profumi mononota tipo facevano il sandalo il gersomino il primo gersomino era un gersomino diverso dal gersomino indiano che hanno adesso era un gersomino che assomiglia di più al gersomino di Lutens alla Nui e che mi ricorda più la profumazione dei gersomini che si sentono in Spagna al sud della Spagna in Andalusia in posti come Siviglia o anche nel nostro amato sud Italia o nelle zone mediterranee della nostra Italia e dicevo quindi tanti profumi di erbolario mi ricordano molti profumi di nicchia mentre per esempio vi ho parlato in questi giorni anche di Bottega Verde Bottega Verde invece tende a fare dei dupe più di profumi famosi come Dior come per esempio Gucci si ispira di più ai profumi della grande distribuzione quindi erbolario lo trovo più raffinato come tipo di fragranze e questo qui veramente mi ha stupito per la durata mi ha stupito per la durata perché ha un rapporto qualità-prezzo incredibile poi quello che si sente è incredibile perché appena spruzzato non si sente la zaffata di alcol e poi arrivano le note olfattive proprio subito senti queste note calde avvolgenti senti questi questi legni senti questi agrumi e alla fine questo fondo molto molto talcato quindi per concludere la vera novità secondo me di erbolario di quest'anno è proprio Indaco Indaco lui che la prima volta che l'ho spruzzato mi ha lasciato un po' così perché l'ho sentito quasi come un profumo un po' troppo da uomo ma poi veramente si evolve e sta benissimo anche sulla pelle di una donna ha un'intensità una profondità lo sento come un profumo che ha una profondità proprio per per come si evolve ma in maniera così morbida graduale e poi come rimane sugli abiti ho proprio il piacere di risentirmelo anche il giorno dopo negli abiti che ho indossato sul cappotto è un profumo stra-invernale secondo me da marzo in poi è meglio lasciarlo perdere o usarlo magari la sera perché è anche il profumo proprio da da maglione di lana da maglione è un profumo da coccola tipo Shalimar secondo me quel tipo di di uso lì che ne farei come usate Shalimar potete usare in quelle situazioni emotive anche questo qui indaco dell'erbolario mi rendo conto che ho parlato tantissimo ho preso dell'entusiasmo oggi e niente è buona anche la crema perché ho provato anche la sua crema tra l'altro un'altra cosa che vi dico prima di chiudere il video è che le creme dell'erbolario sono molto migliorate gli inci sono ottimi rispetto a una volta quindi tanto di cappello perché c'è un forte miglioramento anche in quelli che sono non solo i profumi ma i prodotti per il corpo mi ha stupito perché in qualche video passato vi dicevo che i profumi di erbolario che ai quali sono più affezionate sono ancora quelli vecchi tipo Iris tipo la rosa oppure la mandorla però con questo erbolario ha dato il meglio di sé a chi già possiede Alien io regalerei volentieri la crema perché vado accordissimo con il profumo Alien e queste due creme mi piacerà acquistarle senz'altro in futuro e niente vi auguro buon pomeriggio buona settimana e ci vediamo nel prossimo video ciao a presto